È una città a metà, perché alcuni locali sono ben forniti, altri naturalmente no, quindi bisogna fare ancora parecchio. È essenziale per noi, per vivere un attimino più sereni e anche per i bambini stessi, per farli essere più igienici, più puliti. Ma ecco, sicuramente i locali per cambiarli, quello penso sia fondamentale, poi per il resto in qualche modo ci si arrangia. No, ma sicuramente per l'igiene dei bimbi quello è qualcosa che manca, che dovrebbe esserci. Maggiormente sull'autostrada il servizio è un po' più efficiente, diciamo che sono più puliti. Beh, gli autogrill sono quasi sempre forniti di fasciatoio e sono anche abbastanza puliti. Il servizio c'è ma spesso è scadente, perché sono sporchi e l'igiene per i bimbi è una cosa che una mamma guarda, quindi se il fasciatoio, il bagno è sporco sicuramente non è utilizzabile.